Aptos è stato uno dei progetti più attesi per quest'anno e finalmente la Mainnet, quindi la rete principale, è stata lanciata il 12 ottobre. Ha raccolto oltre 350 milioni di dollari di finanziamenti. Sulla carta offre diverse innovazioni, quale ad esempio un'altissima velocità di transazione, un nuovo tipo di linguaggio e di programmazione, una maggiore decentralizzazione e delle innovazioni per quanto riguarda il meccanismo di consenso. Ma sarà veramente così unico questo progetto? Scopriamolo insieme in questa analisi. Cos'è e come funziona? Aptos si definisce come una nuova blockchain L1 impegnata nello sviluppo di prodotti e di applicazioni per portare il Web3 finalmente alla famosa mass adoption. Le caratteristiche principali di questa nuova blockchain sono il fatto di avere un elevatissimo throughput, quindi tantissime transazioni per secondo, quindi una maggiore scalabilità, un nuovo tipo di linguaggio chiamato Move per progettare gli smart contract in una maniera molto più efficace e molto più efficiente. Move sostanzialmente permette maggiore sicurezza e maggiore flessibilità e soprattutto grazie al Move Prover gli sviluppatori diciamo sono abbastanza guidati nello scrivere gli smart contract perché è difficile che incappino in errori di programmazione. Inoltre Move si ispira al linguaggio Rust che è lo stesso utilizzato ad esempio in Polkadot, in Solana e Aptos è anche definito Solana Killer perché diciamo che c'è il rischio abbastanza concreto che gli sviluppatori di Solana si spostino appunto da Solana che utilizza Rust puro e proprio ma è veramente difficile programmare su Solana, mentre Move introduce molta più flessibilità e facilità nella programmazione di smart contract e quindi è anche plausibile che molti sviluppatori di diversi progetti migrino su questa blockchain. Il linguaggio Move inoltre permette un'aggiornabilità molto più rapida, quindi addirittura senza il bisogno di fare hard fork sulla catena, salvo in rarissimi casi. Comunque maggiori approfondimenti sul linguaggio Move li trovi sul nostro sito www.malatiedicripto.it Inoltre questa blockchain ha una bassa latenza perché viene utilizzato un approccio batch, quindi di gruppo diciamo dove vengono raggruppate queste transazioni, pipeline e parallelizzato perché appunto le transazioni vengono processate simultaneamente in maniera parallela e questo garantisce chiaramente minore latenza e un maggiore throughput, quindi maggiori transazioni per secondo. Infine c'è un'ottimizzazione per le prestazioni e per la decentralizzazione perché c'è un nuovo tipo di meccanismo che permette la rotazione dei validatori. Come modello di consenso utilizza la proof of stake con tolleranza agli errori bizantini, quindi significa che anche se un terzo dei nodi sono tra virgolette corrotti, la blockchain continua a funzionare. C'è un minimo di aptos da mettere in staking per poter diventare un nodo validatore e se questi nodi validatori non rispettano lo staking minimo o ci sono altri tipi di problemi vengono tra virgolette resi inattivi e fatti girare e altri prendono il loro posto, tutto in maniera regolata automaticamente dal protocollo stesso. Il tutto sempre per garantire a detta loro una maggiore decentralizzazione e una maggiore efficienza di questa blockchain. Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire a livello tecnico, ma se sei interessato ad approfondire bene questi concetti, ti consiglio di guardare il nostro articolo che ti lascio qui in descrizione e anche nei commenti per poter approfondire il tutto. Il team. Aptos Labs è l'organizzazione che ha sviluppato Aptos ed è guidata da Mosha Ik e Avery Ching. Entrambi inizialmente lavoravano sul progetto Libra, che era come ti ho detto all'inizio il progetto seguito da Facebook, che poi ha ribrandizzato in Diem e alla fine Diem non è stato portato avanti perché Facebook, meta, ha avuto dei problemi a livello legale. Il team dovrebbe essere composto da oltre 350 sviluppatori sparsi in tutto il mondo con un background veramente, veramente importante. E diciamo appunto che il team che lavora dietro ad Aptos è colui che ha creato il linguaggio Move, ha creato il Move Prover, che è quello che permette sostanzialmente la verificabilità e l'aumento della sicurezza nello scrivere di smart contract in Move, e ha anche creato il motore di esecuzione delle transazioni parallele BlockSTM. L'Atokenomics. Siamo arrivati alla parte più importante di ogni progetto cripto, ossia la Tokenomics, cioè l'economia della moneta. Devi sapere che la fornitura iniziale di Aptos è di circa un miliardo sulla carta, perché poi vediamo che nella pratica in realtà non è un miliardo. APT potrà essere diviso fino a otto cifre, in cui l'unità più piccola si chiama Okta. Qui vediamo la distribuzione del token Aptos. Il 51% è stato dato alla community, mentre il 19% ai core contributors, quasi il 17% alla fondazione e il 13,5% agli investitori. Al momento, per quanto riguarda la parte della community, il grosso, quindi oltre 400 milioni di Aptos, sono detenuti dalla Aptos Foundation, mentre l'incirca un centinaio di milioni dalla Aptos Labs. Questi token Aptos in questo fondo community verranno distribuiti tutti entro 10 anni, di cui 125 milioni subito disponibili per poter finanziare progetti e quindi aumentare l'adozione e aiutare gli sviluppatori appunto a sviluppare nuovi progetti su questa blockchain. 5 milioni invece per supportare le iniziative dell'Aptos Foundation, anche se in realtà 5 milioni a mio modo di vedere sono veramente pochi. E infine un centoventesimo di tutti questi token verranno sbloccati ogni mese. Per quanto riguarda invece la parte dedicata agli sviluppatori e agli investitori, questa parte sarà bloccata per almeno un anno. Quindi sulla carta gli investitori non possono vendere i propri Aptos almeno entro un anno. Però tranne, e qui c'è la furbata, il fatto che i premi dello staking, quindi le ricompense derivanti dallo staking, possono essere vendute. E perché ti dico gaboletta? Perché quando andremo a vedere lo stato attuale tra due capitoli, capirai esattamente di cosa sto parlando. Passato il primo anno, quindi al tredicesimo mese, 3 quarantottesimi di questi token verranno sbloccati, e ogni mese successivo fino al diciottesimo mese. Dal diciannovesimo mese in poi, un quarantottesimo di questi token verranno sbloccati nei prossimi 4 anni. Qui puoi vedere come il token Aptos verrà emesso nei prossimi 10 anni. È importantissimo sapere che al momento non c'è un cap, quindi non c'è una fornitura massima. Per il momento sono un miliardo sulla carta. Comunque ti lascio in descrizione un link molto utile per vedere quando i token Aptos verranno sbloccati, perché teoricamente ad ogni rilascio si potrà assistere a una pressione di vendita. Perché è molto probabile che quando un investitore riceva parte di questi Aptos sbloccati, li vada a vendere chiaramente a mercato per realizzare un profitto. Inoltre ci sono altre cose molto importanti da sapere. I token Aptos, essendo una proof of stake, chiaramente possono essere messi in staking ad un validatore, e questo validatore deciderà la ricompensa da tenere per sé e da distribuire ai delegatori. Per quanto riguarda i nodi validatori, non c'è slashing, quindi anche se si comportano in maniera malevola non perdono parte dei loro Aptos. Attualmente lo staking, quindi l'inflazione, dovrebbe essere all'incirca intorno al 7%, che va a diminuire dell'1,5% ogni anno, fino a raggiungere il 3,25% fisso ogni anno, che verrà mantenuto per i prossimi 50 anni. Una cosa, secondo me, interessante è il fatto che tutte le commissioni di transazioni generate sulla rete Aptos vengono bruciate. E ovviamente il token Aptos serve per pagare le transazioni in maniera nativa su questa rete, mettere in staking e quindi contribuire ad aumentare la sicurezza della rete, e infine anche per proposte di governance. Anche se al momento, in realtà, andando a spizzicare nel loro forum ufficiale, c'è solamente una proposta attiva. Ecosistema e potenziale. Al momento i dati su DeFiama sono abbastanza deludenti, perché si parla di circa di meno di 40 milioni bloccate all'interno della rete Aptos, con solo una decina di progetti attivi. Non gliene faccio una colpa estrema, nel senso che è un progetto veramente giovane, che ha lanciato da meno di tre settimane in mainnet, però diciamo che, avendo raggiunto 350 milioni di finanziamento, e avendo una capitalizzazione di mercato che adesso si aggira intorno al miliardo di dollari, e completamente diluita siamo tra gli 8 e 9 miliardi, secondo me potevano fare di meglio. Giusto per completezza di informazione, sulla rete Aptos si possono comprare i domini, quindi quello che per Ethereum sono gli ENS domain, quindi dei nominativi che finiscono con punto e TH, la stessa cosa si può fare su Aptos. Comunque lascio il link sempre in descrizione per approfondire la questione. Salute del network. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal numero di transazioni, perché a mio avviso comunque è veramente alto. Si parla all'incirca di un milione di transazioni al giorno, con un picco di 2 milioni e 400 mila transazioni, toccate il 19 ottobre. Una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso è il fatto che nonostante ci sia oltre un milione di transazioni al giorno, le fee generate sono bassissime, perché ad esempio nella giornata del 30 ottobre si parla all'incirca di 22 Aptos generati in fee, che poi chiaramente vengono tutti barnati, che non riescono chiaramente a coprire l'inflazione del protocollo. E poi vabbè, nonostante il discorso sempre delle 100 mila miliardi di transazioni per secondo, al momento la rete Aptos processa sulle 12 transazioni per secondo. Con un picco di quasi 28 transazioni, toccate sempre il 19 ottobre. E infine un po' di dati generali. Sono già state toccate quasi 20 milioni di transazioni, quindi questo è molto buono. Il numero di account unici si aggira intorno ai 2 milioni, ma è in continua crescita. Ti ricordo però che il numero di account unici non si intende possessori o persone uniche. Una persona potrebbe anche avere 3 o 4 account. Però comunque questo è un dato in continua crescita. E questo sicuramente è positivo. Un'altra cosa che ad occhio potrebbe essere positiva è il fatto che ci sono 823 milioni di Aptos in staking, corrispondenti all'82-83% della fornitura totale, che di primo impatto potrebbe essere positivo. In realtà, andando un po' più a fondo, tutti, o comunque la stramaggior parte degli Aptos, li hanno in mano la Aptos Labs e la Aptos Foundation, li hanno messi in staking per ottenere appunto all'incirca un 7% di ricompense all'anno. Ma capite che un 7% su 823 milioni di Aptos in staking è una quantità spropositata di Aptos ogni anno, messi in circolazione. Questi Aptos però sono per gran parte degli early investor, quindi degli investitori e degli sviluppatori. Perché ritorniamo al concetto di prima, i fondi degli investitori e degli sviluppatori sono bloccati per un anno, ma non le ricompense dello staking. Quindi comunque loro ogni due settimane, ogni mese, incassano degli Aptos derivati dalla ricompensa dello staking e li dampano a mercato. Capite già da soli, dati alla mano, questo progetto nei prossimi anni beccherà comunque delle belle mazzate a livello di pressione di vendita. Il giudizio finale Aptos è estremamente giovane perché ha lanciato da tre settimane in mainnet e ha tantissimo da dimostrare. Però partiamo dal presupposto che ha raccolto oltre 350 milioni di dollari di finanziamenti e ad oggi, ora come ora, ci sono solamente dieci protocolli attivi, un TVL di minore di 40 milioni di dollari. Quindi da questo punto di vista mi aspettavo qualcosa in più. Poi non dimentichiamoci che al momento la capitalizzazione di mercato si aggira intorno al miliardo di dollari, mentre completamente diluita siamo intorno agli 8 o 9 miliardi di dollari. Quindi capite che è un progetto che dal mio punto di vista ad oggi è overvaluato, cioè è sopravvalutato. Inoltre ho fatto abbastanza fatica a trovare delle informazioni riguardante la Aptos Foundation e la Aptos Labs, quindi questo è sinonimo comunque di poca trasparenza, anche perché poi non si capisce bene chi sono i nodi validatori. Insomma ci sono delle cose che ho fatto fatica a capire perché non si trovano questi tipi di informazioni e non sono riuscito a capire esattamente l'obiettivo loro, o meglio sulla carta dicono di voler portare il Web3 alle masse, però non parlano affatto di interoperabilità. Quindi da quello che ho capito il loro obiettivo è creare un unico layer 1 e far girare tutto sulla blockchain di Aptos, che comunque se ci pensate è un obiettivo molto ambizioso, anche perché se pensate che c'è ad esempio Ethereum che gira da diversi anni, che ha decine e decine di miliardi bloccati nel proprio protocollo con decine e decine, anzi centinaia di applicazioni decentralizzate che girano, Aptos si deve fare strada sgomitando forte in questo spazio per poter riuscire a fare questo tipo di cosa. Anche se io sono sempre per l'interoperabilità, ma in Aptos non ne ho sentito minimamente parlare. Poi c'è il discorso legalità, cioè che Libra, poi rinominato Diem, è stato bloccato proprio per dei cavilli burocratici e sostanzialmente Aptos non dico che è la coppia, cioè è il successore di Diem, ma poco ci manca. Quindi non vorrei che in un futuro non troppo lontano questo progetto possa incorrere in problemi legali e quindi potenzialmente anche arrestarne la crescita e lo sviluppo. Infine sul lato negativo c'è la tokenomics. Avete visto anche voi che l'emissione dei token Aptos nei prossimi anni è qualcosa di mostruoso. Le fee al momento, anche se vengono bruciate tutte, questo è positivo, ma non coprono l'emissione. Quindi sostanzialmente assisteremo a una continua crescita della fornitura totale e questo chiaramente non è un bene. Sommato al fatto che gli Aptos in staking sono tantissimi e quindi gli investitori iniziali ogni mese comunque possono dampare a mercato una loro parte. Soprattutto poi passato il primo anno, da 2023 al 2024, l'emissione è molto accentuata. Quindi secondo me assisteremo a una pressione di vendita costante e molto forte che andrà a aumentare nel tempo. Quindi a livello di prezzo io onestamente non sono molto interessato ad investire in questo progetto. Lato positivo invece c'è il fatto che comunque il team è un team estremamente competente. Sono riusciti a creare un nuovo tipo di linguaggio di programmazione molto flessibile, unico nel suo genere. Utilizzano una virtual machine che non è la Ethereum virtual machine ma è la Move virtual machine. Questo potrebbe dargli un vantaggio competitivo se si giocano le loro carte. Però chiaramente è un se grande come una casa. E nella documentazione degli sviluppatori ho trovato questa cosa che mi ha lasciato un po' sorpreso. Ossia i coin creator, cioè coloro che creano una moneta sulla blockchain Aptos, hanno la possibilità sia di mintare ma anche di barnare questi tipi di coin e soprattutto anche di frizzarle. E onestamente non ho ben capito questa scelta di design. Sono curioso di sapere voi cosa pensate di questo progetto. Se possa avere un grandissimo futuro o semplicemente è un giochetto passatemi il termine per i venture capital per poter massimizzare i profitti e dampando in testa i token ai piccolini come noi fatemelo sapere nei commenti insomma cosa pensate. Io spero che l'analisi sia stata di vostro gradimento. Se così fosse lasciate un like a questo video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo per la prossima analisi. Per oggi è tutto. Ciao malati di cripto. Alla prossima!